benvenuti questa sera questo incontro con un grande scrittore americano anche molto simpatico per quello che ho potuto constatare in questi ultimi cinque minuti e benvenuti a Torino spiritualità che posso dirlo con soddisfazione senza dover incrociare più le dita perché siamo in corso ci sta dando grandi soddisfazioni state tornando ad ascoltare a sentire a dialogare ed è molto bello e ci dà ci dà veramente la carica per l'entusiasmo di cui abbiamo bisogno tutti per affrontare quello che che verrà nella prossima stagione e quindi grazie a tutti voi innanzitutto per questa per questo entusiasmo che trasmettete il tema del festival come sapete quest'anno è un tema originale sfidante perché associare la spiritualità alla pelle può sembrare paradossale anche fuori luogo invece più andiamo avanti più ci rendiamo conto di quante sollecitazioni questo tema ci dà anche il corso d'opera non solo nella preparazione del programma nel dialogo che abbiamo avuto costruendo il programma ma anche strada facendo e la sorpresa che ci dà questo tema è un po in fondo anche il filo conduttore di quello che vorrà essere oggi questo accompagnarvi nella lettura di questo romanzo che è un romanzo che ha vinto il premio pulitzer che è l'opera di un autore che sta camminando in maniera sorprendente nella narrativa contemporanea non soltanto americana e io vorrei cominciare dicendovi perché mi ha sorpreso questo libro e perché mi auguro che sorprenda voi nel leggerlo perché non è quello che ti aspetti questo titolo in netanyahu se non stiamo a diciamo a declinare un sottotitolo che già invece racconta molto soprattutto dello spirito del libro non è una biografia non è una storia di famiglia non è una saga dedicata oppure lanciata con verso da figura che tutti associamo a questo cognome che è bibi netanyahu che è stato e in fondo continua ad essere un personaggio centrale nella politica israeliana oggetto naturalmente di critiche invettive entusiasmi è un personaggio di cui a prescindere dalle sue scelte decisioni politiche sa molto far parlare di sé bene ma in questo libro non si parla di lui se non in maniera marginale in questo senso in netanyahu questo romanzo non è un libro militante nel senso che ti aspetti da questo titolo allora che cos'è proviamo a capirlo insieme ma soprattutto a chiederlo all'autore è innanzitutto una campus comedy cioè un genere molto particolare è un libro ambientato tutto in un campus universitario anche quando la scena si svolge dentro le mura di una casa però tutto ruota intorno al mondo fisico geografico e soprattutto umano di quella realtà che per noi non esiste perché non abbiamo nulla che somigli vagamente a quello che è un campus universitario questo è un campus marginale non è una delle università celebri degli stati uniti e anche questo ha una rilevanza narrativa importante e anche a suo modo un memoir storico dedicato a un personaggio che riconosciamo abbastanza in in fretta nel libro anche se non abbiamo letto nulla sul libro che è stato forse il più grande critico letterario del secondo novecento harold bloom è dedicato a lui e lui in qualche modo c'è non credo di svelare nulla al lettore è soprattutto questo romanzo una riflessione questo in fondo spiega il contesto di questo festival del tema della pelle è una riflessione sull'identità una riflessione che riesce ad essere al tempo stesso lieve e profonda ti destabilizza però ti spiega anche molte cose l'identità è al centro ed è anche la cosa che spiazza leonarrante che non si chiama harold ma si chiama ruben che è messo di fronte a una chiamata in quanto ebreo lui unico professore ebreo dell'università è chiamato a ricevere quest'altro professore che viene da israele che quindi è ebreo che poi non è neanche che le due cose si sovrappongano sempre e per ragioni imperscutabili viene considerato la persona adatta a fare l'accoglienza di questo docente ecco in questa narrazione che racconta di fatto questo episodio marginale cioè le titubanze disavventure sorprese che incontra ruben bloom ha nel nella preparazione dell'accoglienza a questo strano figuro che poi arriva con tutta la famiglia e c'è tutta la in questo episodio così circostanziato c'è tutta la gamma di paradossi e di sradicamenti della condizione ebraica che essere sempre un po e qui ci veniamo dentro e fuori dalla propria pelle in questo senso e arriva la domanda a joshua cohen questi personaggi sono tutti un po fuori luogo un po spaisati è così so i i love the end of the first question so i can finally say hello to everyone it's like you know it that is a very you know jewish thing you make someone just wait you know 10 minutes to say hello hello and thank you thank you uh for being here and 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 thank you for 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 doing this thank you for staying here yeah it's a pleasure it's a pleasure you know i missed the rain um i think that uh uh yeah it it it's difficult to say because um you know the the this book is set in in 1959 1960 which you know uh i hope that i i look like someone who wasn't alive then um i really hope that i don't look like someone who's alive then i but i wasn't um and and um so it was a time i had to imagine and uh and it was a uh but it was also a time as far as i understood it of really great self reinvention it's a time almost that imagined itself um largely because it's the first televised decade it's the first time where you're seeing these moving pictures these representations in your home um you're beginning to see even color in your home um as you get toward 1960 in the united states and um and people are phenomenally obsessed i would say with the way that um they're represented in images and uh and so what i was particularly taken with with this book was um was someone who is the children of immigrants which is the narrator ruben blum um who is attempting to assimilate into american society and forget his quote-unquote roots as much as possible who um is doing so at a time when suddenly representations of ways of being are being beamed to him constantly and uh and he's wrestling with these staggering conformities that also come along with apparently with economic power you know and um and uh and cultural let's say hegemony which is the position america thought it was in and possibly wasn't following the second world war allora innanzitutto mi fa è una cosa molto ebraica quella che è successa qua cioè che ti fanno aspettare 10 minuti per poter dire buonasera che piacere vedervi che piacere essere qui con voi ehm allora eh innanzitutto grazie comunque per essere qui e gli è stato detto grazie a te per essere qui e lui ha detto no no anzi poi mi mancava la pioggia mi fa molto piacere essere qui con voi questa sera allora cosa devo dire ehm è difficile spiegare un po eh il mio punto di vista su questa domanda perché allora il libro è ambientato eh verso la fine degli anni 50 59 e 60 e eh spero che voi non pensiate guardandomi che io fossi già nato e anche grandicello all'epoca vi posso giurare che non lo ero assolutamente non c'ero questo cosa vuol dire che ho dovuto immaginarmi com'era la vita all'epoca eh detto ciò com'era la vita all'epoca beh era un periodo di eh rinvenzione bisognava reinventarsi tutti si reinventavano le persone erano in un momento in cui c'era da reimmaginare tutto soprattutto negli Stati Uniti pensiamo ad esempio che è stato il primo decennio si apriva appunto il primo decennio in cui le televisioni erano ovunque non soltanto le televisioni ma anche le televisioni a colore eh a colori negli Stati Uniti ed ecco anche eh sulla scorta di tutto ciò la gente ha cominciato a sviluppare una vera e propria ossessione un'ossessione per la eh rappresentazione delle delle immagini quelle che poi alla fine si vedevano in televisione quindi quello che io mi proponevo di fare era di eh parlare di una persona che era figlio di immigrati appunto ehm Ruben in questo caso eh che in che situazione si trova beh deve tenta eh disperatamente di assimilarsi alla società americana del tempo e tenta quindi in sostanza di lasciarle indietro di far finta che non esistano le sue radici di dimenticarle e ehm si trova a fare tutto questo in un momento in cui invece la la rappresentazione di quel se che lui cerca di lasciarsi alle spalle gli viene eh flashata in faccia di continuo ogni volta che appunto guarda la televisione e quindi lui eh fatica moltissimo a eh fare i conti con quella che è la come dire il conformismo richiesto dalle strutture di potere economico piuttosto che anche dall'egemonia culturale che in quel periodo caratterizzavano gli Stati Uniti eh che appunto erano in questa fase di grande espansione dopo la seconda guerra mondiale e e i'll just give kind of two quick little anecdotes to follow up on on that um just in terms of the thinking of you know um skin and um you know one's appearance right um and 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 one's identity um the it's 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 amazing to me that you know that i was able in 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 my lifetime which is you know not not been that long um to be able to have you know i i i met he was able to meet some people who were you know very peripherally involved and remember sort of like the early golden age of hollywood right um and you know one of the things that i i was thinking about uh you know i don't know why i think about i think about in italy because i just pass clothing shops all the time and and i was thinking about something that 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 someone told me that the the earliest you know real hollywood studio system really came from jews who came to the united states and they were in the garment business they were in the clothing business and they were the ones who invested in hollywood because if you were in the clothing business you know that you always work one season ahead you always invest a season ahead and they were willing to do this for movies and i remember you know there's this moment where they asked one of these it was jack warner one of these early executives at a you know at a warner brothers i think you know how did these garment workers become these guys who make these american dream movies and he says it's just cutting you know it's like you start as a tailor you end as a guy making movies that sell people dreams but it's just cutting and um the all of the formats though when 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 film moved to early television to sitcoms the really beginning of a situation comedy comes from the american immigrant experience the idea that you're living in a small budget in small apartments there's no privacy no one ever knocks on the door they just come in whenever they want you know they they they're deeply invested in your business and they'll you know stick their noses in anywhere um the reason why i'm bringing these things up is because these are processes by which i think people assimilate without even um uh assimilate in an opposite way it's it's as much as these people kind of became american they were also making america more like them mm-hmm okay allora ehm vi racconterò una serie di aneddoti immagino anche nell'arco di questa intervista ma soprattutto voglio poi anche ricollegarmi alla tematica appunto del festival come abbiamo sentito adesso cioè la pelle l'aspetto l'identità eh questo sicuramente sì ma intanto eh vi racconto un'altra cosa ovvero il fatto che eh trovo assolutamente affascinante che eh nella nell'arco della mia vita che ribadisco non è stata così lunga fino adesso eh ho incontrato eh alcune persone che in sostanza hanno contribuito a creare Hollywood il mito di Hollywood l'età d'oro di Hollywood e eh questo aneddoto mi torna in mente questa questa esperienza mi torna in mente spesso soprattutto quando sono in Italia perché voi avete tutti questi negozi di abbigliamento fantastici ecco adesso capite dove vado a parare tra un attimo ehm la cosa che eh mi ha fatto riflettere è il fatto che effettivamente se uno pensa come è nata Hollywood ma davvero come è nata la vera Hollywood e beh cosa è successo che eh c'erano alcuni ebrei che eh sono emigrati negli Stati Uniti e facevano i sarti si occupavano di fare vestiti in sostanza e poi hanno deciso di investire investire ovviamente in questa attività e da una da una come una cosa tira l'altra diciamo così e cosa gli è venuto in mente gli è venuto in mente che beh eh i film i film ti chiedono di ti richiedono di cominciare a lavorarci adesso ma poi il film esce tra un anno quindi eh se io riesco a fare la mia bella collezione a vendermi i vestiti adesso perché già tra un anno so che insomma io sono a posto facciamo così seguiamo questa strada ed è così appunto che è nata Hollywood e eh ricordo che era Jack Warner forse della insomma Warner Brothers che non so potrebbe essere che appunto quando gli è stato chiesto tutto questo gli è stato detto ma com'è che a Hollywood è stata fondata cioè è nata da questo gruppo di eh ebrei sarti in sostanza com'è che è andata così eh e che poi in fondo Hollywood è l'American dream per eccellenza non sogno americano lui ha risposto tutto tranquillo questione di taglio tagliare è così che finisce una faccenda perché si passa dall'essere dei sarti dal tagliare i vestiti fino ad arrivare a creare dei veri propri sogni il il sogno americano vendere i sogni agli americani e il sogno americano attraverso i film è tutta questione di tagliare e poi c'è stato il passaggio che è il passaggio successivo che dopo Hollywood è stata la televisione ovviamente e eh all'inizio agli albori la sitcom americana cos'era era in sostanza tutta giocata sugli americani immigrati perché perché c'erano queste scene con un budget limitato rispetto a un film eh delle stanzette più piccoline eh zero privacy tante persone che vivevano nella stessa stanzetta tutti con una mh con un questo slancio a sapere i fatti degli altri a ficcare il loro naso in quello che gli altri stavano facendo eh e appunto tutto questo ha fatto sì che ci fosse una sorta di assimilazione in due sensi in che senso nel senso che da un lato ovviamente questi immigrati diventavano più americani attraverso queste sitcom ma dall'altro l'America diventava più come loro grazie adesso svegliamo un pochino del libro pian pianino allora il Netanyahu protagonista di questa vicenda oggetto di questa vicenda non è come ha detto Bibi cioè il ex primo ministro di Israele ma è suo padre che si chiamava Benzion Netanyahu che in questo libro per una buona parte del libro è una specie di creatura attesa non dico come il messia ovviamente però c'è questa figura che incombe sulla storia come un ingombro come ma anche come una chiave di lettura della storia stessa perché questo professore della Corbyn Ruben Blum lo aspetta non sa perché deve aspettarlo perché abbiano chiamato lui ad aspettarlo ma insomma c'è questa suspense che sospende la figura prima che diventi veramente corpo vero e proprio è molto ingombrante devo dire nel momento in cui poi fa la sua comparsa effettiva nella storia però io vorrei ancora tornare indietro cioè riprenderemo al nostro Benzion Netanyahu fra poco ma a un certo punto Ruben l'io narrante dice sono venuto al mondo con una pelle non del tutto bianca allora quando si legge questa frase e qui lui sta raccontando della propria famiglia ebraica americana che è molto diversa da quella della moglie pur essendo lei un'ebrea americana ma sono due ebrei molto diversi con un background molto diverso sembrano veramente atterrati da pianeti diversi ecco di fronte però a questa frase di Ruben non può non venire in mente la macchia umana di Philip Roth e io adesso chiedo a Joshua Cohen che volente o dolente lui ha da confrontarsi con una grandissima letteratura ebraica americana potente grande e anche molto invadente da un punto di vista di uno scrittore ci può parlare del suo rapporto con a partire da Roth, Malamud, Bellows, Singer e tanti altri ecco come come si come si vede in rapporto a questa a questa schiera di scrittori ebrei americani grazie a tutti grazie a tutti ma grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie go grazie a tutti si è morto per 60 anni si è stato l'unico che ha un Ph.D., ha un doctorate e poi ha studiato a un'Ivy League school e era il primo giù hired there e si è stato there like that writing endless books about Shakespeare e about the Elizabethans e anche la British Romantic Poetry of the 19th century while Philip Roth was, you know, fucking half the world and Saul Bellow was on his 30th divorce and, you know, whatever, right? And so, you know, and so Bloom was the he was the good child in a way and actually, you know what? Let's break up these small we can do that here, yeah Effettivamente poi alla fine dei conti è di questo che parla il mio libro solo che ne parla attraverso gli occhi di Harold Bloom per l'appunto lui, da punto di vista generazionale lo collocherei appunto tra Bellow e Roth e che dire lui era il bravo ragazzo della situazione ma proprio un bravo ragazzo bravo tanto ragazzo perché allora si impegna tanto si sposa con una ragazza Jean con cui poi passa tutto il resto della sua vita studia arriva al PhD quindi ha anche il suo bel dottorato va a lavorare in una prestigiosissima università americana dell'Ivy League ed è il primo ebreo a fare una cosa del genere poi si siede vi ho fatto vedere come si siede io non lo rifaccio e cosa fa? Si siede e scrive scrive, scrive scrive di Shakespeare scrive degli elisabethiani scrive della poesia britannica che era il diciannovesimo secolo romanticismo e questo e quell'altro tutto questo mentre Roth va in giro a scopare tutto quello che trova e Bellows invece è al suo quarantesimo divorzio quindi capite bene che per l'appunto Bloom è veramente un bravo ragazzo and his what he is most known for actually turns out to be his best idea which is fairly rare among critics he was very much taken with what you know he later called the anxiety of influence or just influence theory which in a very basic way you know can be reduced to a application of psychoanalysis to literary criticism when it comes to influence but you know and I'll do a very you know bad job of summarizing it here is is and everyone can check Wikipedia at home and you know do whatever but you know it essentially comes out of this idea of belatedness that everyone feels that they are born too late for authentic history and that every generation feels that they're born too late for the quote unquote authentic right because they fetishize some authentic past that came before them and that the later that you were born the more past there is behind you and it is crushing right it is crushing the amount of stuff that has been written and thought in the past how could you possibly make anything to add to this conversation so Bloom essentially has this model it's a very you know patriarchal you know kind of almost classically Freudian model but he basically says there are weak writers and a weak writer is someone who they look at the past and they essentially say there's so much and they either consciously or unconsciously apprentice themselves to someone in the past and they become an imitator of the past then there is the quote unquote strong writer who looks at the past and to a degree convinces themselves that the past was flawed or that a mistake has been made and that they see the flaw in the past and in a way only they can correct it so their writing gives them a chance to correct the record all right all right and effettivamente per cosa succede che Harold Bloom è in realtà noto soprattutto per la migliore idea che abbia avuto che non è una cosa che succede molto spesso quando si tratta di critici letterari a lui è andata bene diciamo così ovvero la questione dell'ansia da influenza ovvero la teoria dell'influenza adesso in sostanza è la psicanalisi applicata alla critica letteraria per quanto riguarda l'influenza degli scrittori che gli scrittori vivono sulla loro pelle per l'appunto io sicuramente riassumere farei un lavoro penoso per cui vi consiglio vivamente di andare su wikipedia e guardare che cosa ha scritto cosa è questa teoria e così capirete molto bene ma in sostanza in soldone di cosa si tratta c'è la questione della belatedness del fatto di sentirsi sempre in ritardo diciamo così ovvero di essere il fatto che tutte le generazioni quando nascono si sentono già troppo in ritardo rispetto a quello che è il passato chiamiamolo autentico che viene così in questo modo insomma è andato io me lo sono perso e quindi viene un po' feticizzato questo passato e più nasco tardi più passato mi ritrovo alle spalle più mi sento assolutamente schiacciato da tutto questo che c'è prima di me cosa posso farci a questo punto con tutto quello che c'è dietro cosa posso aggiungere io questa è l'ansia appunto che si prova e quindi Bloom propone un modello che se vogliamo è un po' un modello patriarcale di stampo anni 40 però appunto questo è e divide gli scrittori in due diciamo macro categorie quelli che lui chiama e qui di nuovo tra virgolette deboli weak per l'appunto e che cosa fanno questi scrittori si guardano indietro guardano questa eredità incredibile questo passato che si trovano alle spalle e poi anche in maniera inconsapevole magari diventano un po' degli apprendisti cercano di carpire il meglio del passato e diventano degli imitatori imitano quello che c'era stato prima di loro e poi ci sono gli altri c'è l'altra categoria gli strong i forti e che cosa fanno gli scrittori forti beh loro si guardano indietro esattamente come gli altri però vedono le cose in modo diverso perché pensano che ci sia qualcosa c'era qualcosa che non andava c'è stato un errore c'è stato un problema a un certo punto e quindi si convincono che loro soli possono risolvere o fiare a questo errore attraverso la scrittura and what's interesting in this dichotomy one thing that's interesting in it is that the so-called weak writer you're not sure whether it is a conscious decision or an unconscious decision to imitate the past but at least the weak writer is looking at the past and you would think seeing the past for quote what it is but the strong writer who is looking at the past is almost totally crazy is misinterpreting it is in fact looking at the past and seeing only a problem that only they can solve right so you know I say that it's a good model for a writer but a bad one for you know a prime minister or a president but you know I felt then that this is what interested me not just with the Roth you know I want to say generation but they're different generations Bellow and Roth but not with that not with that past it interested me with frankly everything that I had been born to respect that the world I then grew up in immediately devalued right I'd been I'd been raised to feel a certain way about literature about the word and then I matured apparently into a world where where I was told that this was a secondary concern and and so for me I think that the entire question is for me to continue writing do I can I stay clear eyed can I stay can I maintain some clarity about the past and continue writing or do I have to distort the past in order to survive and I think that that's a that's a fundamental question I think for 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 every writer and then this dichotomia I found particularly interesting because I found particularly interesting because in a certain sense these scrittori more weak and more deboli per l'appunto non it's clear if they are aware of the fact that they are imitando but when they look indietro when they imitate per l'appunto they look at the past and in theory entre certain limit they see the past the past for what it but the strong strong they don't what they do what they at the past and then assumono a posizione completely folle rispetto al passato perché danno un'interpretazione tutta loro al passato e pensano poi di essere gli unici a riuscire a porre meglio quello che è successo in passato che è una cosa che funziona molto bene a me piace dire per gli scrittori un po' meno quando avere un atteggiamento del genere un primo ministro un presidente comunque tutto questo è qualcosa di importante qualcosa di cui io sono molto consapevole e devo dire che non mi sono mai rapportato tanto come scrittore al passato guardando alla generazione non direi alla generazione di Roth perché effettivamente Bellos era un po' prima poi è arrivato Roth ma però insomma tutta questa tutta questa questo background diciamo così che mi ha accompagnato fin dall'inizio più che altro devo dire che la cosa che mi ha più influenzato forse è stata la mia esperienza personale cioè il fatto che io sono nato e poi per un periodo della mia vita mi è stato insegnato che certe cose avevano un valore andavano rispettate quindi sono cresciuto in un mondo che poi lentamente non dava più alcun valore alle cose che prima mi aveva detto queste cose sono importanti ad esempio la letteratura ad esempio appunto occuparsi del pianeta insomma tutta una serie di questioni che dovevano essere importanti che poi invece a un certo punto mi è stato detto no no in realtà lascia stare sono cose secondarie non sono cose importanti e quindi per me è molto importante per poter scrivere è stato molto importante per poter scrivere capire se io potevo restare come dire avere gli occhi avere una vista bella chiara bella nitida su quello che era il passato oppure se l'unico modo per andare avanti per scrivere sarebbe stato per me quello di distorcere il passato per riuscire a sopravvivere secondo me è proprio qui la chiave la questione principale e proprio molto rapidamente lo prometto l'ultimissima cosa ve lo prometto poi sto zitto in realtà appunto questo approccio di Harold Bloom questa teoria è poi quella che io ho utilizzato proprio per creare questo libro e l'ho applicata nel mio libro ma l'ho anche usata proprio come dire a creare un gioco di contrasto che viene illustrato molto bene nelle due concezioni della storia che ci vengono proposte da una parte da Ruben Blum e dall'altra appunto da Benzionde Netanyahu due punti di vista della storia che sono diametralmente posti e assolutamente irriconciliabili siamo qui per ascoltarti per cui puoi parlare tutto il tempo che vuoi mentre spiegavi questa questa dicotomia diciamo fra gli scrittori deboli e gli scrittori forti in una interpretazione della letteratura blumiana ma anche coeniana direi cioè molto originale da parte sua mi veniva in mente una cosa che c'è un cortocircuito di fondo in tutto questo e cioè di una letteratura e una cultura così profondamente come dire e necessariamente non vorrei dire ancorata al passato ma che in qualche modo per esistere deve fare i conti con il proprio passato come in fondo è tutta la tradizione ebraica ma nello stesso tempo il mondo ebraico vive in un orientamento nel tempo che è l'opposto di quello comune è una cosa che io dico spesso ma che forse vale la pena ripetere brevemente nell'orientamento comune del tempo noi abbiamo il futuro di fronte e il passato alle spalle ai giovani si dice avete il futuro davanti a voi nell'orientamento ebraico del tempo ma sto parlando della lingua ebraica che ci dice con due radici molto chiare che davanti c'è il primo il primo e il davanti sono la stessa cosa corrispondono cioè il passato ce l'hai di fronte e il futuro ed è la tesi di Walter Benjamin in filosofia della storia l'angelo della storia soffia alle tue spalle ed è una tempesta che però hai alle spalle di fronte al passato se volete c'è una logica in tutto questo cioè il passato è conoscibile il futuro no mai e allora ti domando quanto pesa tutto questo cortocircuito di una civiltà delle parole fondata sulla costruzione nel tempo attraverso il passato e una percezione del nostro orientamento nel tempo che dovrebbe dire l'opposto di una cosa che credo sia una fondamentale conflitto che è una ancient conflitto che ha forget it's unfashionable to speak about no one even would begin to speak about this like academics can't talk about it because it seems crazy you know even politicians for how crazy politicians forget if they started talking about this shit they'd be done and that is what is the shape of history right whether you believe in a medieval you know Italy a great home of circular history the history of Vico right a history that recurs and that repeats and that certain patterns return with regularity or you believe in the enlightenment history which is the post enlightenment history which is progressive and that you know we're not perfect but every generation slightly atones for the sins of the previous generation or advances the agenda of the previous generation and the arc of the moral universe bends toward justice so the circular history or the miliarist history is the basic distinction here beh sì effettivamente diciamo che io mi proponevo di parlare di due tizi che si trovano nella zona occidente a ovest di New York in un college di cui non frega niente a nessuno due tizi di cui non frega niente a nessuno non riesco neanche a dirlo Netanyahu e in un momento particolare in questo posto che alla fine non è da nessuna parte negli Stati Uniti e qui però io volevo portare alla luce un conflitto un conflitto che è un conflitto fondamentale un conflitto molto antico ed è anche qualcosa però di cui non è che si parla tanto perché non è una cosa diciamo che ti attira molte simpatie se sei un accademico e parli di queste cose pensano subito che sei pazzo se sei un politico e ti butti su questa roba rischi il posto per cui tutti lo ignorano fanno finta di ignorare la questione però è in sostanza la forma della storia qual è che forma la storia e qui c'è questa di nuovo una dicotomia che troviamo ed è un'alternanza tra quella che in Italia ben lo sapete e la visione medievale quella di Vico quella dei corsi e ricorsi storici e quindi il fatto che appunto le cose tendono in qualche modo a ripetersi poi c'è la visione illuminista invece che è quella che vede il progresso il progresso che accade sempre il progresso che fa sì che ogni generazione in qualche modo riesca ad ovviare ai peccati della generazione precedente quindi ci sia sempre un passo in avanti ci sia sempre qualcosa insomma la storia in questo senso non è circolare ma è lineare va in avanti ogni nation ha una fate o una destina che è di fattere in ogni generazione e, you know ma poi c'è la Netanyahu version di Benzio Netanyahu version di e e The cycle of that history must be broken. And he, as a historian of the Middle Ages, he's a historian specifically of the Iberian Inquisitions, you know, comes to do this job interview at a university, at a college, where the historian who's supposed to take him around, Ruben Blum, who's nothing like Harold Blum, he's a professor of taxation studies, right? And who is a child of immigrants, grew up speaking Yiddish in the Bronx, and wanted to get away from all of that. And because America has allowed him to get away from that and allowed him to improve his social and economic position, he truly believes in a milieuist history that it might not be perfect now, but it's getting progressively and steadily better. And these two men, when they meet, find their worldviews completely incompatible, right? Ruben Blum thinks Benzio Netanyahu is a psychopathic alarmist, right? Who doesn't understand, who's been so traumatized by experience that, not even experience that he personally had, but by historical experience, that he can't understand that there are differences in history and that there can be change. And Benzio Netanyahu thinks that Ruben Blum is a naive fool who, though his generation might be spared, maybe they'll come and kill his children. And it's that conflict that I feel, you know, it's not only at the heart of the Jewish experience, you know, but I also think it's a conflict that it's at the heart of pretty much every, you know, multicultural, multi-ethnic democracy these days that tries to ask themselves, you know, what history do they believe in? And who are your neighbors? Who are your people? Who do you feel safe among and around? And who do you feel can be responsible for your destiny and that you can be responsible for theirs? E quindi ci sono delle diverse visioni della storia, c'è appunto la circolarità, la circolarità che può diventare addirittura perfetta, la circolarità che va al di là addirittura della concezione umana e che quindi appunto è una perfezione che noi umani forse non riusciamo neanche a cogliere. Poi c'è la concezione spanglariana tedesca che vede invece una sorta di riassunto, come dire, interpreto a modo mio, un destino per ogni nazione ad esempio. Poi c'è quello che pensano i nostri eroi che pensa Benzion Netanyahu rispetto a quello che pensa il nostro Blum. Cosa pensa Benzion Netanyahu? Beh, pensa alla circolarità della storia, ma come la vede la circolarità della storia? La vede come un perpetuarsi della sofferenza e dell'oppressione degli ebrei e ogni nuova generazione si trova a rivivere esattamente gli stessi eventi e vede la propria esistenza messa in discussione, minacciata e tutte le generazioni da sempre e per sempre continuano appunto in questo loop, insomma in questa circolarità e quindi questo ciclo va spezzato, va spezzato in qualche modo. Lui è un professore, un professore di storia, di qualsiasi storia, di inquisizione spagnola per capirci e ha a che fare poi con invece Blum. Blum si occupa di cose completamente diverse, Blum si occupa di studi fiscali, si occupa di tasse e mentre appunto il nostro Netanyahu Benzion arriva da questi trascorsi, arriva da queste posizioni, Blum lui è cresciuto parlando yiddish, è cresciuto nel Bronx e non vedeva l'ora di liberarsi di tutto questo bagaglio che ha sempre trovato estremamente pesante e grazie al fatto che si trova negli Stati Uniti se lo può permettere, riesce effettivamente a lasciarsi alle spalle tutto questo che lui sente un po' in un certo senso come un fardello e quindi alla luce della sua esperienza diversa appunto da quella di Netanyahu cosa crede? Crede che in sostanza magari la storia non è perfetta però un po' la volta i progressi se ne stanno facendo e quindi cosa succede? Che ci troviamo a un certo punto davanti a due visioni della storia che sono assolutamente incompatibili in cui secondo Ruben come Benzion è uno psicopatico allarmista che traumatizzato dall'esperienza manco sua cioè dall'esperienza storica non vede nessuna differenza nessuna sfumatura nella storia in generale mentre Benzion come lo vede Blum? Beh, lo vede come un poveretto cioè un povero stolto che ha perso la ragione che non si rende conto che prima o poi magari lui se la caverà pure ma i suoi figli potrebbero sempre farli fuori quindi insomma insomma questo conflitto è quello che sta proprio alla base della non soltanto dell'esperienza effettivamente dell'esperienza ebraica ma in fondo sta alla base di quella che qualsiasi società che sia multiculturale, multietnica e solleva una serie di domande che alla fine poi sono domande molto molto comuni domande del tipo a quale storia devo credere? Oppure domande del tipo chi sono le persone che mi stanno accanto? Di chi mi posso fidare? Chi vuole farmi del male? E chi no? E di chi è la responsabilità per quello che succede a me? Di quello che succede a me? È mia? E io ho responsabilità di quello che succede agli altri? E io ho justo addo una last nota che in questo conflitto tra questi due concepioni di storia c'è un'altra parte c'è un'altra parte But really, there is these three women, but really two, it's Sila Netanyahu, Ben Sila Netanyahu's wife, Edith, who is married to Ruben, the mother of Judith. And it's between, you know, if I have an angel of history, let's say like a Benjamin-esque angel of history in the book, it's really somewhere between Edith and Judith. Right. Because as these two men argue these two conceptions of history and whether history repeats itself and is a prison, you know, that one must, you know, escape and then defend against being put in again. And then the other man says, no, no, it's getting slowly better. It's getting slowly better. You know, you know, there are, there's this mother, Edith, who is saying, what do we do now? Right. How do we make this family work now? And that none of you understand the moment in which I dwell. And then there's the daughter, Judith, who is essentially saying, I don't believe in the existence of history at all. And all of this must be erased, that your idea of circularity and recapitulation and your idea of progressive, you know, improvement, it's all bullshit and nothing existed before me or should. E quindi in questo conflitto, in questo conflitto su punti di vista storici, ci sono poi anche delle altre, delle altre posizioni. Vedrete che poi leggendo il libro incontrerete i tre ragazzini, perché i Netanyahu hanno tre figli piccoli di 13, 10, 7 anni, che sono Ioni, Bibi, per l'appunto, e Hiddo, i quali sono interessati ai biscotti, quello che interessa loro, i biscotti, punto e basta. E poi ci sono le donne, le donne in questa storia che sono Zila, che sono anche appunto la moglie di Netanyahu e Hiddo, che è la moglie di Ruben e oltre a Hiddo c'è Judith, che è la figlia di Hiddo e di Ruben. E se dovessi pensare a un angelo della storia in stile Benjamin, per l'appunto, direi che forse sarebbe tra Hiddo e Judith. Perché? Perché abbiamo appunto questi due uomini che non smettono di litigare sul fatto che la storia, ma sì, la storia c'è questa circolarità, è una prigione, bisogna cercare di uscirne, ma non si esce assolutamente, siamo vincolati, e chi più ne metta, e l'altro che dice, ma no, non sta andando così male, dai, secondo me diventa un po' meglio tutti i giorni. E poi abbiamo Hiddo, la madre, per l'appunto. E che cosa dice lei? Dice, ma oggi qui che cosa facciamo noi come famiglia? Come ce la gestiamo qua la nostra vita, la nostra giornata? Come facciamo a fare in modo che la nostra famiglia funzioni, che la nostra vita familiare funzioni? Voi non capite il nostro presente. Questa è l'opinione di Edith. E poi c'è Judith. Judith che è appunto la ragazzina, ed è una ragazzina che proprio non crede a nulla di nulla, non gliene frega niente di tutto quello che questi altri stanno dicendo. Per lei sono tutte panzane, assolutamente. L'esistenza della storia in sé, ma per lei non esiste proprio. E secondo lei bisogna liberarsi della circolarità, della ricapitulazione, del progresso, ma chi se ne frega? Sono tutte stronzate, dice Judith. Io ci tengo a precisare, dopo averlo ascoltato con estrema attenzione e curiosità, che questo in realtà non è un romanzo attesi, o meglio, è un romanzo in cui c'è tutto questo che lui vi ha raccontato, ma anche è un romanzo avvincente, con delle pagine di comicità assoluta e anche la descrizione di questi tre pargoletti di Benzion Netanyahu, uno dei quali diventerà Bibi, l'altro Ioni morirà di lì, siamo nel 59, nel 76, e poi nel 76 lui morirà in questa operazione che salvò gli ostaggi di Enteb. Quindi non bisogna mai dimenticare quanto questo fratello pesa nella coscienza, nei comportamenti, nel non detto del Bibi che tutti conosciamo, ma questo è un altro discorso. Quello che tengo a dire è che è un romanzo divertentissimo, veramente ci sono delle pagine strepitose e questo porta al fatto che io non so quanto lui lo volesse o quanto si arrabbi se glielo dico, però anche Benzion Netanyahu alla fine diventa simpatico, io non so quanto fosse voluto, ma in questa sua follia e in questo suo aggredire la storia e aggredire anche i suoi ospitanti, perché di fatto più che di ospitalità, di aggressione si tratta in quella famiglia dove arriva in visita il docente israeliano, ebbene alla fine, ma neanche alla fine, nel corso della storia anche questi cinque sciamannati, non so come si traduca sciamannati, diventano simpatici, si riesce in qualche modo anche a identificarsi in loro, nonostante tutto, quindi non so quanto questo sia voluto e gli faccia piacere, ma è giusto che ogni lettore eserciti la libertà di divertirsi a rispetto dell'autore e dei suoi personaggi. È un grandissimo libro, lascio a lui l'ultima parola ed è disponibile, abbiamo forse spazio per due o tre domande, grazie. Grazie, sì, mi piace Benzion Netanyahu anche, sì, sì, mi sento che cosa significa? What does it mean, this is an interesting question, I've been thinking, you know, this is something that in the book is a question that I was continually underlying every part of the book, and it's something that I don't know that I got any closer to answering, but what does it mean that a person could have the same ideology in one job and then the same ideology in another job, and it's really the lack of power that makes him sympathetic? right if Benzio Netanyahu had his son's job there would be no sympathy but why do we have sympathy then for a man who has these opinions but lacks the power to act on them and that to me is a really profound human question right and the closest I've come to it to answering that is saying that it's a very human thing to understand lack and want and need and the resentment and anger that comes from not getting what one feels one deserves right and but it is always better to pity someone than to elect them elect them yeah scusate chiedo perché così ma devo dire che effettivamente pur a me sta simpatico Benzion perché no assolutamente sì insomma questa è una questione che comunque sia anche scrivendoro il libro ma effettivamente è vero viene fuori ancora e poi ancora se uno si legge il libro effettivamente anche io stesso mano a mano che lo rileggevo e che ci pensavo mi rendevo conto che effettivamente c'era questa tematica che è molto interessante se ci pensiamo però il fatto che se uno ha un'ideologia un punto di vista diciamo così un'idea che persegue in un e si occupa di una certa cosa ti sta simpatico e ti fa magari pena una cosa del genere ma se uno ha la stessa idea e lo stesso ha la stessa ideologia lo stesso slancio e fa un lavoro diverso magari ti sta meno simpatico che cosa voglio dire? che nel ruolo di Benzion abbiamo qualcuno che non ha potere non ha potere quindi questo fa sì che gli venga fuori questa frustrazione che in un certo senso forse è quella che ci fa fa sì che a noi piaccia ci resti quasi simpatico questo Benzion ma se lui avesse in realtà lo stesso atteggiamento e il lavoro del figlio ci sarebbe meno simpatico diciamo così un po' questa sensazione perché? perché lui in realtà non ha alcun potere per mettere in atto le sue idee e secondo me è proprio qui il punto perché questo è un tratto estremamente umano secondo me è una questione estremamente umana perché è estremamente umano che cosa? è estremamente umano soffrire la mancanza di qualcosa è estremamente umano avere bisogno di qualcosa volere qualcosa con tutte le proprie forze e provare un enorme risentimento se poi quella cosa lì che tu pensi di meritarti non ce l'hai e appunto è per questo che appunto c'è questa rilevanza importante della riflessione poi anche forse per questo che è più importante che qualcuno ti faccia pena ma non necessariamente lo devi eleggere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti